Ciao ragazzi, ciao a tutti. Faccio questo video al volo perché mentre ero in bagno in una delle mie tante sedute spiritiche, ovviamente non stavo facendo veramente una seduta spiritica, mi è capitato sotto gli occhioni un articolo su Multiplayer.it che meritava la mia attenzione. Facciamo un passo indietro. Come voi sapete, dieci giorni fa, e non so se lo vedete qua, io ho fatto un video, è stata fatta una live su Twitch e è stato poi portato il video su YouTube. Il titolo che ho messo è World Earths come vendere schifezza nel 2023. Regulatevi la live, è un po' lunga, ma è una live dove, per farvela breve, pensavo che il gioco si fosse installato male, pensavo che gli artefatti visivi, i poligoni fatti male fossero a causa di una mia errada installazione su Xbox ADS, ho disinstallato il gioco e l'ho reinstallato, pensando che gli artefatti visivi che vedevo erano colpa di una installazione non correttamente eseguita. Quindi, ragazzi, immaginatevi a mettere un gioco e a dire, no vabbè, alla fine non può essere questa, sicuramente si è installato male. L'ho disinstallato e l'ho reinstallato, purtroppo notando poi che il gioco è quello. Che succede? Che è stata fatta poi una delle tante recensioni su Multiplayer.it, che il nostro Aligi Comandini gli dà un bel voto 8. Io adesso non ve la sto a leggere, la potete regolare voi, ma il nostro amico Aligi Comandini gli dà un bel 8. Un 8, perché per lui mi dà 8. Wilders ha sinceramente superato le nostre aspettative. Mai ci saremo aspettati da Omega Force, un titolo in grado di rivaleggiare con i Monster Hunter, mentre meno dotato di sistemi così solidi dà garantirgli una personalità propria. Insomma, per dire di alcuni, certo non si può scalzare la serie madre, qualche problemino c'è, però 8. La telecamera ha problemi, e mi sa che problemi ce l'ha pure chi ha recensito il gioco, ovviamente sto idonico, non prendertela, è ironia la mia, pure io ho problemi fondamentalmente. Il problema è che questa recensione, come l'ho già fatto vedere, esce il 16.2, il giorno, e torniamo sopra, 17.2, Simone Tagliaferri mette una news che ho scritto Wilders, recensioni molto negative su Steam, la versione PC è un disastro per i giocatori. Ragazzi, questo ve l'ho già fatto vedere in un altro video, se non erro. Il problema sostanzialmente è poi la schiera di fan incazzati che scendono a frotte per darmi dell'incompetente, poiché io lascio un commento, e sia mai che l'ho fatto, sia mai, non c'è a che dire complimenti. Come al solito avete dato un voto eccessivo ad un gioco facendo finta di non vedere tutte le criticità e i difetti dello stesso. E qui esce fuori Stiltanuki, che mi attacca il pippone, che io non capisco un cazzo dei videogiochi. Da come lo difendevi ero certo lavorassi per loro, perché lui ha difeso subito a spada ratta Multiplayer.it. E che succede? Ma qua i fanboy sono solo uno che rispetta il lavoro della gente. Tu accusi il recensore di aver taciuto evidenti problemi prestazionali e di bug nella recensione. Quando ci sono le live di giocato che provano questo PC del recensore, questi problemi non c'erano. Capito? E lui si attacca a sta cosa. Ho detto la grafica sembra di PlayStation 2. Ok, ho esagerato. Facciamo anche PlayStation 3. Grafica della PlayStation 2, mi sa che te la PlayStation 2 non ce l'hai mai avuta. Quindi Stiltanuki si erge difensore di Multiplayer.it e del videogioco perché è bellissimo. Ok. Ragazzi, 26.2.2023. Tommaso Pugliese. Wild Earth, la videoanalisi di Digital Foundry, e ripeto, Digital Foundry, non è l'azienda dei coglioni, cioè non è Daniele Mastrangeli, non è la Tana dei Nerd, ma è Digital Foundry, mette in evidenza i problemi del gioco. A quanto pare le varie versioni di Wild Earth non brillano e la videoanalisi di Digital Foundry mette in evidenza alcuni dei problemi tecnici del gioco. Ora, sebbene non a livello della disastrosa versione PC, Wild Earth si muove sulle console Sony e Microsoft con più di un'incertezza sul fronte della qualità degli asset, che è quello che avevamo visto noi. la muschia, il muschio sugli alberi, il fogliame, le texture delle docce che erano squadrate, tutte le merde che abbiamo visto noi, ma che per Stiltanuki io sono un incompetente. Ragazzi, se vi serve qualcuno al Digital Foundry, mi offro volontario, perché a questo punto io semplicemente è la seconda volta che anticipo quello che poi succede a Digital Foundry, perché è già successo un'automic art. Io ho semplicemente anticipato dei problemi del gioco, però io sono un coglione se lo dico, lo dice Digital Foundry che hanno ragione e io l'ho detto prima, però va bene, ok, io sono incompetente, tranquilli. Digital Foundry che ha realizzato la videoanalisi delle versioni PC PS5 e Xbox Series XS riscontrando una serie di problemi tecnici che impediscono all'hunting game di Omega Force e di spiccare davvero. Ok, qualità asset dell'effettistica scendendo a importanti compromessi per quanto riguarda le prestazioni, ma quando l'ho detto io non esisteva. Le due modalità grafiche, e qui l'avevo già detto anch'io, disponibili adottano infatti degli espedienti per ridurre il carico computazionale. Il 4K a 30fps non sono dinamici e scendono fino a 1080p nelle situazioni più caotiche. La stessa risoluzione utilizzata per la modalità a 60fps. Quest'ultima purtroppo non è disponibile per Xbox Series S, che non gira a 4K ragazzi. Per quanto riguarda invece la già citata versione PC, Digital Foundry ha ammesso di non averci passato sopra troppo tempo, vista le magagne piuttosto evidenti e già ampiamente segnalate. Regà, Digital Foundry ha detto, e il gioco mi fa a cagà, non gliela faccio a starla a guardare così. Ma l'ha detto Digital Foundry. L'ha testata inglese, ok? Ragazzi, ve lo ripeto, ve lo rileggo. Digital Foundry ha ammesso di non averci passato sopra troppo tempo, viste le magagne piuttosto evidenti. Cioè, hanno detto, sto gioco fa a cagare, non ci volemo giocare così. Strano, mi ricorda qualcuno. Allora, quello che dice Digital Foundry è al 26. Sono le stesse cose che se andate a vedere il mio video dei dieci giorni fa, dico io. Solo che, l'ho detto io e è arrivato Stiltanuki a rompere i coglioni, perché potenzialmente ha cominciato a stronseggiare Stiltanuki. Lo dice Digital Foundry tutti i proni perché ci hanno ragione, ok? Io ho semplicemente anticipato quello che ha detto Digital Foundry, ok? Ho soltanto detto dieci giorni prima quello che Digital Foundry avrebbe detto qualche giorno dopo, ok? Atomic Art, perché qui abbiamo un'altra parentesi con Atomic Art. Atomic Art, che io ho discusso con un utente sotto a un video, se andate a vedere ho fatto anche nella live, ho fatto una live in cui facevo vedere, che ho discusso con un utente che eventualmente ve lo recupero pure tra le notifiche, non è un problema, che è Bufalo Bill. Voi vedete, ve lo faccio vedere direttamente in video, quello che è successo, ok? Questo è quello che è successo, ok? Io ho detto, potrebbe essere una spiegazione quella che ti ha dato quattro ad Atomic Art, abbia giocato la versione Xbox ADS, che è detta fra di noi, fa altamente cagare. No, guarda, che sto giocando da due giorni, forse c'è upscaling, ma te ne accorgi solo se guardi lo stesso gioco su due piattaforme diverse, ma dire che faccia cagare non esiste nella vita. Antonio D'Ugo, ma il bello è Bufalo Bill. Confermo che inizialmente Xbox ADS facesse cagare la profondità di campo, ma ora hanno risolto. Ovviamente sul PC è meglio, però ottimo, il ghiaccio sul console fa cagare, va bene. Ti dirò, ci sta giocando mio fratello su Xbox ADS, mi sono stupito di quanto fosse bello anche sul console. L'unica cosa grave erano le cose animate lontane, anche solo 10 metri, ma tranquillo che hanno risolto. Abbiamo visto nell'ultra live che non è vero quello che ha detto il tizio. Funziona molto bene, non avendo nello Xbox ADS o PS5, io mi accontento, funziona molto bene. Ok, qui c'è stata praticamente Gatto Silvestro, poi, che è stato che ha fatto un po' lo stronzo, che ha fatto un po' lo stronzo, giustamente, che ha fatto un po' lo stronzo. Però, la cosa bella, questo io lo commento due giorni fa e quasi esattamente poi, più o meno lo stesso giorno, esce fuori questo. Atomicart è stato analizzato in un nuovo videoconfronto di Digital Founding, centrato soprattutto sulle caratteristiche ed eventuali differenze tra PC, PS5, Xbox e XS, rivelando alcune specificità per ognuna piattaforma. Il gioco è basato su Unreal Engine 4, che tecnicamente è davvero notevole, sebbene si possano rilevare anche vari difetti tecnici. Qual è la problematica di questo gioco? La problematica di questo gioco è, le console di nuova generazione hanno ovviamente un notevole vantaggio rispetto ai PS4 e Xbox One, entrambe sostanzialmente con la stessa risoluzione 4K dinamica, che però rimane nella maggior parte dei casi ancorata su tale valore. Gli PS5 e Xbox ed XS utilizzano l'anti-alising temporale, eccetera, eccetera, eccetera. La versione Xbox ed S, però l'ho detto io, non conta, visualizza invece il gioco a 1080p, anche in questo caso dinamici, ma quasi continuamente stabili su tale valore. Non è vero perché ho letto che ce n'è anche sotto i 900p. però facciamole scena passare, ok? Però quando l'ho detto io non andava bene. Ma andiamo a vedere che gli stessi Digital Foundry, in un loro video su YouTube, fanno vedere una cosa, ok? Fanno vedere questa scena. Guardatela. Allora, fanno vedere quella scena e fanno vedere questa, per far vedere che ci sono dei cali di framerate piuttosto evidenti, ok? Il problema è che lo dice Digital Foundry, c'hanno ragione. Lo dico io. Il day one, quando carico il gioco sulla console e mi scendono frotte di teste di minta, perché, passate per il termine, piede delle esimie teste di cazzo, mi scendono giù esimie teste di cazzo che mi attaccano dicendo che non è vero, il gioco dici da benissimo e sono io che non capisco un cazzo, ok? Però qualche giorno dopo lo dice Digital Foundry, allora a me un sospetto mi viene. Se io dico alcune cose, evidenzio alcune criticità di un gioco, poi mi scendono una, ripeto, una flotta di esimie teste di minchia ad attaccarmi, perché secondo loro il gioco è perfetto, ma dopo la stessa Digital Foundry fa notare alcune criticità, allora ragazzi, passatemi il termine e lo ripeto, spiede delle esimie teste di cazzo. Detto questo, ragazzi, io voglio soltanto un attimino farvi notare che non è che io quando provo un gioco, guardo un gioco, dico delle cose che non stanno in cielo e in terra. Probabilmente dico delle criticità che purtroppo, ripeto, purtroppo ne ho già anche parlato più volte, purtroppo sono criticità che vanno notate dagli addetti ai lavori. Detto questo, vi saluto, volevo soltanto farvi partecipi di quello che è successo, come al solito avevo ragione io, ma che vedevo di, va bene così. Detto questo, vi saluto, ciao ragazzi e buon gioco.